I segnali di ripresa sono timidi in tutto il paese, ma è pur sempre meglio vedere un segno più che non un segno meno, come purtroppo abbiamo visto per tanti lunghi anni. In Liguria tutti i settori danno segnali di viva città e di ripresa. I traffici nel porto stanno crescendo e crescendo molto bene, il turismo sta crescendo e crescendo molto bene. Anche quest'anno Genova e Liguria sono segnalate tra le cinque località, le cinque regioni che accoglieranno più turisti nel nostro paese per le festività natalizie. Per fare questo sosterremo ovviamente la campagna turistica anche con spot che verranno trasmessi dalla settimana prima di Natale, cioè tra poche ore, su tutti i maxischermi delle stazioni del nord Italia, nei cinema dove vengono proiettati i film di Natale. Come sempre la mia Liguria sarà presente nelle grandi città per invogliare e venire a conoscere una regione anche fuori dalla stagione più tipica dei bagni, ovvero in inverno. Poi l'artigianato di qualità, il commercio, tutti i settori che nella prossima legge di stabilità tenderemo a sostenere ancora più di quanto non abbiamo fatto negli anni passati e anche questi danno dei segnali di ripresa. Diciamo che il 2018 promette bene, speriamo si sviluppi ancora meglio e soprattutto quel reforo di ripresa si trasformi in opportunità per i tanti giovani che hanno bisogno di lavoro ma anche per le tante persone che lo hanno perso in questi anni di crisi. Per questo abbiamo stanziato nella legge di stabilità oltre 28 milioni di euro per un impianto coordinato di aiuti a chi ha perso lavoro e ai giovani che debbano trovarlo.